allora ragazzi lavoro finito questa era la mia seggio la precedente come potete vedere era un rudere che mi ha completamente distrutto la schiena per anni e adesso e wallah questa ragazzi è la seggio la finita come potete vedere sembra abbastanza comoda ho detto sembra perché non l'ho ancora approvata poi vi farò sapere se è comoda o meno se mi fossi chiamato skiller invece di serpiede zekin avrei già i cuscinetti e la sponda della seggiola in pandan ma non vi preoccupate li farò fare con la scritta serpiede zekin poi li metterò su e niente vi farò sapere in un prossimo video o addirittura in live se è comoda o meno e questo è tutto ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao